Possibile che io debba sempre essere quello che interviene per spiegarvi dei concetti base. Ora è avvenuto un attentato a Londra, però questa volta gli attentatori non sono islamici, ma i musulmani sono le vittime, perché parrebbe che un uomo si sia lanciato con un veicolo, proprio come gli attentati di Nizza e come gli attentati dell'Hondo Bridge, con un veicolo sopra la folla di musulmani riadunati davanti a una moschea, uccidendone uno, pare ci sia un morto, dico pare pare pare, perché fin quando non ci sono più informazioni è meglio usare il dubitativo. Ora, vi vorrei stare qui a spiegare gli studi che sono stati fatti, in lingua inglese e in lingua italiana, da molti studiosi del fenomeno terrorismo. E so che c'è un pensiero come quello di dire il terrorismo nasce a seguito della condizione economica. In realtà non è così, il terrorismo non ha a che fare con il disagio economico di una persona. Questo è ravvedibile già dai tempi del terrorismo italico, neri, rossi, bla bla bla, ma soprattutto è stato studiato anche nel fenomeno del terrorismo islamico. Chi commette gli attentati spesso non è una persona che vive un disagio economico. La radicalizzazione avviene, diciamo, in due modi. Spesso il complito dei reclutatori è quello di riuscire a individuare una persona che abbia determinate caratteristiche per essere radicalizzata e indurre la radicalizzazione. E quindi poi chi va a commettere questo tipo di gesti è una persona che è stata convinta a sposare un ideale. E non è una questione quindi, come ripetevo, di disagio economico, ma proprio di crederci quando lo fai. Questo avviene in vari modi, adesso non stiamo qui a spiegarlo. Il recruiting dell'Isis spesso si fa nelle periferie, spesso si fa nei luoghi dove ci sono le moschee, ci si informa su determinate personalità, chi sono i più deboli, chi sono i più soli, chi sono quelli che comunicano poco con gli altri, eccetera. In modo che il reclutatore possa prendere questa sua situazione, quello non parla con nessun altro, è una persona che non comunica con altri le sue intenzioni, quello che farà. Insomma, è tutto un processo. Adesso non sto a raccontarvi. Ovviamente quando il reclutatore o il radicalizzatore deve radicalizzarti, lo fai utilizzando dei buoni argomenti. E' che noi lo facciamo per il giusto credo, otterremo questo, quest'altro, quelli sono infedeli, vanno contro la parola di questo, vanno contro la parola di quell'altro, bla bla bla, e si forma l'attentatore. Ora, nessuno aveva regalato all'Isis un'opportunità come questa, ha fatto un regalo come questo. I musulmani europei non è che sono moderati, perché la religione non è moderata, però hanno trovato un compromesso tra la loro religione e lo stile di vita occidentale. E diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi, direi quasi totalità dei casi, anche colui che magari può sposare, può approvare, può pensare bene delle operazioni dello Stato Islamico, fondamentalmente è uno che non passerà mai l'azione. Perché comunque è difficile passare all'azione. E i numeri ci dicono che è così, 30 milioni di musulmani, la casistica su 30 milioni è veramente troppo bassa per parlare di un fenomeno diffuso. Allora perché questo è un regalo, questa cosa qui? Perché se politici e persone, anche noi sui social, esprimiamo solidarietà, oppure minimizziamo, oppure diciamo ah finalmente abbiamo regito tutte queste cazzate qui, questo è un regalone. Sapete perché? Perché come dicevo non è questione economica, è questione di situazione, di situazione sociale. Quando tu vedi uno come un nemico e iniziano a esserci episodi come questo, gli altri, che già non hanno una religione tranquilla, reagiscono di conseguenza. E' questo il piano dell'Isis, isolare la comunità islamica, farlo odiare ai cittadini, diciamo, non di quel credo, creare una lotta tra popoli, tra religione, tra culture, tra ideologie, e trasformare in una guerra. E quanto sarà più facile per un recruiter dello stato islamico andare nella moschea, prendere il lupo solitario, quello che già aveva in occhio, e gli fa, hai visto, hai iniziato una guerra, ti odiano, non vogliamo reagire, prometto, bla bla bla, dicono le loro cazzate, eccetera eccetera. Regalone, regalone. Una cosa che nel piccolo, nel nostro piccola sfera di intervento, noi possiamo fare, è quella di dire forte e chiaro, come noi vorremmo che facesse la comunità islamica o musulmana, che in realtà non è comunità in molti stati. In Francia la comunità musulmana non è comunità. Questo l'ho spiegato in tanti video e l'ho ripetuto a centomila volte su Telegram, dove ho commentato appena ho scoperto questo avvenimento, ve lo lascio anche qui sotto in descrizione. È un regalo, se noi facciamo questo discorsetto. È un corpio regalo se lo fanno i politici, perché poi sono i capi popolo. E allora cerchiamo di capire che quello che dobbiamo esprimere non è contentezza e non è giustificazione, ma deve essere condanna totale del gesto, al di là di come la si pensi, ma non perché uno vuole fare il morbido, il debole, il comunista. No, è per non fare un regalo a chi poi può trovare campo fertile per reclutare altre centomille persone in più rispetto a prima. Penso di aver detto tutto. Alla prossima.